È successo sostanzialmente che sulla base di queste nuove disposizioni a RERA dell'autorità nazionale di regolazione dell'energia elettrica e il gas che si occupa da un po' di tempo anche di rifiuti, tutti i piani economici e finanziari di tutti i comuni, sulla base dei dati trasferiti dai soggetti gestori per l'appunto a data, aumenteranno di qualche punto percentuale. E questa ovviamente è una cosa inaccettabile in questo momento, intanto perché viene calata dall'alto senza un minimo di confronto diretto con i territori, con gli enti locali e con i soggetti gestori. È inaccettabile per quello che è il momento di grave difficoltà economica che le famiglie e le attività economiche per l'appunto stanno attraversando sulla base di quelli che sono gli effetti prodotti dalla pandemia sanitaria e soprattutto è un paradosso alla luce di quello che è successo recentemente. Quindi da un lato i comuni sostanzialmente vengono impoveriti perché debbono mettere mano alle proprie casse per ridurre le tariffe delle attività economiche, benvenga per certi versi perché ovviamente alleviamo in parte, seppur in piccola parte, gli oneri delle attività economiche e dall'altro, quindi con l'altra mano, pretendiamo di aumentare le tariffe nei confronti di famiglie ed imprese, oltre che in questo particolare momento storico, semplicemente per ingrassare quelle che sono le casse dei gestori dei servizi di igiene ambientale. Questa cosa è assolutamente inaccettabile, io questa mattina ho dato disposizioni all'ufficio Tributi del Comune di non trasferire i dati a data, o meglio di trasferirli pari a quelli dell'anno scorso e io mi rifiuto categoricamente di approvare in Consiglio Comunale un piano economico finanziario di gestione dei rifiuti che sia in aumento rispetto a quello dell'anno scorso. Vediamo come finirà questo braccio di ferro.